Il Comune di Catania, Rete Ferroviaria Italiana, FS, Sistemi Urbani, rispettivamente Società Capofila del Polo Infrastruttura e del Polo Urbano del Gruppo FS, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato al potenziamento infrastrutturale e alla rigenerazione urbana delle aree dismesse o in dismissione di proprietà del Gruppo Ferrovie dello Stato presenti nella città siciliana. L'accordo prevede l'istituzione di una cabina di regia e un tavolo tecnico con l'obiettivo di definire e sviluppare la strategia e soprattutto gli interventi. Restando in tema di trasporti, Feder Consumatori Sicilia ha inviato alla regione siciliana una lettera per chiedere chiarimenti ufficiali sul nuovo contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 1 gennaio 2024-31 dicembre 2033 che è stato stipulato con l'affidamento diretto a Trenitalia S.P.A. tramite una delibera. Con l'affidamento diretto la regione ha accettato di rescindere in anticipo il precedente contratto di servizio e di sostituirlo con uno nuovo. Facendo tutto ciò tramite un affidamento diretto la regione però ha posticipato di sette anni la prima gara di affidamento di un importantissimo servizio pubblico. L'attuale monopolista quindi resterà tale per altri dieci anni. La nostra associazione ritiene che l'affidamento diretto anticipato del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale effettuato dalla regione a favore di Trenitalia S.P.A. sia un fatto grevissimo e lesivo dei interessi dei consumatori specialmente di quelli economicamente, socialmente e fisicamente più deboli. Si attendono dunque risposte dalla regione siciliana a queste osservazioni e si resta in attesa di leggere la risposta dell'ente alle critiche avanzate dall'autorità garante per la concorrenza e il mercato.